Lo scorso fine settimana, nella frazione marinara di Torre Archirafi, l'Associazione Italiana Donazione Organi è stata presente con uno stand informativo per divulgare la cultura ancora poco diffusa di organi e tessuti. La campagna di comunicazione AIDO sviluppa situazioni di vita quotidiana che solitamente provocano imbarazzo. A partire da queste si affronta il tema della donazione, argomento che si ha timore di approfondire e di cui si preferisce non parlare. Ci sono diverse modalità per aderire alla donazione, presso gli sportelli delle aziende sanitarie e dei comuni con il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000 con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati o tramite la tessera AIDO. Grazie alla campagna di sensibilizzazione oggi in Italia la quantità dei tre pianti è migliorata tantissimo, tanto che nel 2006 si è raggiunto il primo posto in Europa. Oggi il 29 maggio è una data molto importante, è una data dedicata alla riflessione e sulla donazione degli organi. In un mondo dove si corre, dove non ci si ferma quasi mai a riflettere, oggi invitiamo la gente dalla piazzetta di Torre Archirafi a riflettere sulla donazione degli organi e dei tessuti insieme all'AIDO.